fiabe in carrozza presenta come andò che mastro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno non era un legno di lusso ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe nei camminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze non so come andasse ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname il quale aveva nome mastro antonio se non che tutti lo chiamavano maestro ciliegia per via dalla punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura appena maestro ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce questo legno è capitato a tempo voglio servirmene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito la sciarrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi non mi picchiare tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai potesse essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno o dunque ho capito disse allora ridendo e grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare in ripresa l'ascia in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno oi tu mi hai fatto male gridò rammaricandosi la solita vocina questa volta maestro ciliegia restò di stucco con gli occhi fuori dal capo per la paura con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che mi ha detto oi eppure qui non c'è anima viva che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere a lamentarsi come un bambino io non lo posso credere questo legno eccolo qui è un pezzo di legno da camminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno se c'è nascosto dentro qualcuno tanto peggio per lui ora l'accomodo io e così dicendo agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse aspettò due minuti e nulla cinque minuti e nulla dieci minuti e nulla ho capito dissi allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare e perché gli era entrata addosso una gran paura si provò a canterellare per farsi un po di coraggio intanto posata da una parte lascia prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno ma nel mentre che lo piallava in su e in giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti e tu mi fai il pizzicorino sul corpo questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso di paonazza come era quasi sempre gli era diventata turchina dalla gran paura se ti è piaciuta questa storia e vuoi ascoltarne altre vai sul mio canale podcast fiabe in carrozza lo trovi su spotify su apple podcast e su tutte le piattaforme di distribuzione di podcast puoi mettere like e condividere con chi vuoi ciao a tutti statevo buono grazie a tutti